Siamo notati Gesù e Maria, il lettore che abbiamo ascoltato oggi, fratelli e sorelle carissimi, sentono un messaggio un po' drammatico, perché in effetti lo è, e che dobbiamo comprendere bene, per non rischiare di rendere vale alcune grazie da parte del Signore, mi spiego. Il mangelo che abbiamo ascoltato si colpa a un'altra, siamo proprio agli inizi della vita pubblica di Gesù, chi conosce bene il mangelo ricorda l'episodio, l'antefatto di questo episodio è che Gesù entra nella sinagoga e legge un ruoto del profeta Isaia, dove c'era scritto la profezia dell'avvento del Messia, lo spirito del Signore su di me mi ha mandato a consolare i poveri, a portare dietro l'annunzio, a fasciare le piaghe dei malati, eccetera, eccetera. Poi Gesù dice, attenzione, questa parola oggi si è nata in più, cioè il Messia che sono io, aprite il cuore, abbiate fede, credete, accogliete il dono che Dio attraverso di me vuole farmi. E cominciano poi i partiti, ma che dici, vado per fare gli anni, un po' come e qui si inserisce il mangelo che abbiamo ascoltato, Gesù che dice, in verità vi dico nessun profeta è mai nascente in patria, poi cita due episodi, come si è dell'Antico Testamento, uno è quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura, questo pagano, Naaman, il sino libroso, sente dire che c'era questo grande profeta di Israele, abbiamo sentito il racconto, addirittura c'è qualcuno che dice, ma provo a andare, vediamo che succede. Poi quando arriva, Gesù dice, vanta a lavare il Giordano, che si infuria, ma il Giordano erano più belli i fiocchi che stavano a casa, dove fino a qua ve lo aveva metto il Giordano. E alla fine dicono, senti, ormai ho fatto questo viaggio, vantala, che sarà mai, ti fai a bagnetto, e se vuoi, risalto dalla lembra, no? E l'altro episodio, quello della vedova di Zaretta, di Sidone, ai tempi del profeta Elia, c'era stata in Israele una grande carestia, non pioppio per tre anni e sei, questa vedova viveva lei col figlio, aveva esaurito le risorse di cibo, gli era rimasto un pochino di farina e un po' di olio, e Elia va a casa e gli dice, senti un po', come va? Male, adesso ci facciamo l'ultima porzione di pane, dopodiché, io e mio figlio moriremo di fame, e Elia gli dice, vada a fare una cosa, tu prepara un po' di pane per me, prima mangio io, se fare questo, dice il Signore, la farina non finirà e l'olio dell'orcio non diminuirà fino a quando non pioverà sulla terra. questa donna, anche questa, una paganna di Sidone, dà retta a Elia, fa quello che gli dice, e che è successo, che mentre tutti morirono di fame, lei ha continuato a mangiare, questi sono gli altri fatti. Perché Gesù uscita questi episodi? E dice, tant'altro attento, c'erano molte vedove al tempo di Elia, ma Elia fu mandato soltanto a questa di Sidone, c'erano molti nebrosi al tempo di Eliseo, ma fu risanato soltanto a manzino. Qual è il messaggio? E ci sono adesso molte persone bisognose di salvezza, adesso che sono solo sulla terra, purtroppo, molte, la salvezza che io sono e che io ho morto, come voi, non l'accoglieranno. Quelli capiscono bene, si arrabbiano, vogliono buttarlo giù dal precipizio a Nazareth Cento, dove si ricorda queste bisogni, ma siccome non era ancora ora di farsi ammazzare, Gesù, attraverso la sua maestà divina, esercita il suo potere, li blocca, li paralizza e se ne va. Questo è il contesto. Qual è il messaggio? Molto semplice. Allora, Dio, i suoi uomini, i suoi profeti, i suoi santi, li ha sempre mandati in giro. Ci sono sempre, ci sono anche adesso, non pensiamo che adesso la chiesa, una volta c'erano i santi, adesso non ci stanno più. No, non è vero. In giro ci stanno santi uomini, sante donne, santi preti, santi vescovi, santi frati, sante suori e santi cardinali. Da qualche parte il giro ancora ci è stato, stiamo sicurissimi, perché Dio non abbandona mai la sua chiesa. Qual è il problema? Molte volte questi santi personaggi non trovano accoglienza, per cui Dio vorrebbe fare tanto del bene attraverso questi suoi santi ministri, ma non lo fa, non perché non ci sono, ma perché le persone non li conoscono come tali e non li accogliono. Questo è il problema. E qui entriamo in causa. Allora, noi dobbiamo supplicare e pregare, e questo deve essere l'oggetto della nostra attenzione, che sappiamo riconoscere le visite e le grazie del Signore e sappiamo accoglierle, capito? Perché poi un bel giorno, quando andremo dall'altra parte, il nostro Signore ce la farà vedere. Immaginate la scelta, immaginate il Vangelo che abbiamo letto, no? Queste erano persone concrete, reali, carne e ossa. Noi oggi sappiamo chi era Gesù, no? Immaginate i protagonisti di questa scena quando morono posto della mano davanti al Domo di Dio. Gli dice, ti ricordi quello che è successo a Nazareth? Lo sai che mi è buttato al precevizio? Era mio figlio. Ecco, io vi ho raccontato. Capite? Ma dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare molto molto attenti a questo qui, senza farci prendere, come dire, il Patema o il Magone, dicono a Roma, però dobbiamo fare attenzione. Vi ricordate quando Gesù piazza solo a Gerusalemme, no? È un'espressione molto molto consola per quel messaggio della lettura di oggi. Piazza a Gerusalemme che dice Gerusalemme, Gerusalemme, non resterà su te, pietra, su pietra, guardate che dice perché non hai riconosciuto l'ora in cui sei stata visitata. Questo è un grosso pericolo. Tutti quanti possiamo correre, lo speriamo, non si torge dei scampi e che invece possiamo valorizzare e tesaurizzare tutte le grazie che ci manda, sia direttamente quello che ci manda direttamente nel nostro cuore, sia quello che ci manda attraverso i suoi profeti, i suoi santi, le sue sante, i doni che fa la Chiesa e che dobbiamo avere l'umiltà e il discernimento di sempre di conoscere come tali, accoglierli e ricevere tutte quante le grazie che attraverso di loro il Signore vuole fare a nostra vita. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad avere questo discernimento e a riconoscere appunto di accogliere i doni che Dio anche oggi non ha cessato di fare a chi li desidera, a chi ci crede, ai figli della sua Chiesa. Siamo lavati Gesù e Maria. Siamo lavati Gesù e Maria. Siamo lavati Gesù e Maria. Grazie a tutti